Sotto la pioggia battente, che però non ha scoraggiato la presenza e l'entusiasmo dei fedeli, il Papa all'udienza giubilare in piazza San Pietro ha parlato della pietà, un aspetto importante della misericordia, concetto tra l'altro desunto dal mondo greco-romano, dove però indicava per lo più un atto di sottomissione ai superiori, la devozione dovuta agli dèi, il rispetto dei figli verso i genitori. Oggi invece, ha affermato il pontefice, spesso il valore della pietas, così forte e profondo, viene facilmente confuso col pietismo, emozione superficiale che offende la dignità dell'altro, piuttosto con la tenerezza per gli animali, che ha come controparte l'indifferenza verso le sofferenze degli uomini, di un fratello solo, di una vicina che non ha da mangiare. La pietà, ha ricordato il Papa, è invece una manifestazione della misericordia di Dio ed è uno dei sette doni dello Spirito Santo. È il grido che le persone malate, indemoniate, poveri, afflitte, rivolgevano a Gesù, come raccontano i Vangeli, certi che in lui ci fosse qualcosa di straordinario, che li poteva aiutare ad uscire dalla condizione di tristezza o di malattia. E ogni volta che qualcuno diceva, abbi pietà, Gesù si impietosiva e li chiamava ad avere fede. Quel grido è lo stesso, ha concluso Papa Francesco, che dobbiamo imparare anche noi oggi a riconoscere. Per Gesù provare pietà è chi vale a condividere la tristezza di chi incontra, ma allo stesso tempo a operare in prima persona per trasformarla in gioia. Anche noi siamo chiamati a coltivare in noi atteggiamenti di pietà davanti a tante situazioni della vita, scuotendoci di dosso l'indifferenza che impedisce di riconoscere le esigenze dei fratelli che ci circondano e liberandoci dalla schiavitù del benessere materiale. Grazie.